Non basta la novità, Sandriani a cambiare rotta al Gubbio, sconfitto ieri sera anche a Ravenne, terz'ultimo da solo a due punti dai play-out, giallo pesante a Marchi che salterà Teramo, stasera torna fuori gioco. Un gol di buon aiuto nel finale salve il Perugia Cesena, pari prezioso con i grifoni che restano nella zona alta della classifica e giovedì tornano in campo, serie D pari tra Trestine e Sansepolcro. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG Il Calcio, in primo piano stasera non basta dunque la novità in panchina di Alessandriani per cambiare rotta al Gubbio, sconfitto ieri sera anche a Ravenna e terz'ultimo da solo a due punti dalla lina play-out. Una sconfitta di misura 1-0 maturata alla mezz'ora del primo tempo con il guizzo di De Sena in piena area sugli sviluppi di un calcio piazzato nel primo vero tiro in porta dei Romagnoli. Poi la reazione flebile del Gubbio che non ha impensierito la difesa di casa, non ha valso neanche il cambio tattico adottato dal nuovo tecnico, un 3-5-2 con i tre centrali contemporaneamente in campo, le fasce presidiate dai cursori che hanno garantito solidità difensiva per buona parte della gara anche se l'unica distrazione sul gol è costata l'intera posta. Ma da far da coltraltare l'anemia offensiva nel finale inutile il forcing rosso-blu senza particolari sussulti e poi il giallo pesante a carico di capitano Ettore Marchi che diffidato salterà il match delicato di sabato prossimo con il Teramo al Barbetti. Ma sentiamo dal dopogara radiofonico il commento del tecnico Sandriani. E' stata una partita bloccata, una partita a calcio della partita dei Sarecci, il Gubbio ha provato a fare la partita e con volontà sicuramente negli ultimi 20 metri con poca incestività, qualità, mi ha messo, diciamo, su gestione a Ravenna che ha sbloccato la partita probabilmente sull'unica situazione dei 90 minuti, su un calcio pescato e questa è la categoria. Poi al secondo tempo abbiamo un po' schiacciati nella metà campo ma mancata la zampata di un centro. Però fino alla fine ci abbiamo creduto e da rimboccareci le mani. Siamo un po' con la testa bassa. Bisogna rimboccare le mani che adesso diventa molto difficile. Però l'anima la nostra scuola ci ha, quindi per me ci mancherà il capitano. E proveremo altre soluzioni in questo senso. Bisogna adesso recuperare energie fisiche e mentali perché comunque arrivavamo anche da una partita mercoledì, quindi eravamo sulla carta un pochino più stanchi, anche se poi non l'abbiamo dimostrato oggi in campo. Fino alla fine ci abbiamo creduto, quindi sicuramente la partiremo nel migliore dei modi. E stasera approfondimenti e commenti con immagini a fuori gioco in onda alle 21.15. Intanto in campionato nel girone B pari esterno della capolista Padova sul campo del Mestre mentre la San Benedettese ha impattato 1-1 a Bolzano. Vince 4-3 il Pordenone, il match play-off con la Reggiana, mentre in bassa classifica spicca la vittoria del Teramo. Sulla Triestina finisce 1-1. La sfida salvezza Santa Arcangelo-Fano per una classifica che vede sempre in testa il Padova 54. In zona play-off San Benedettese a 46, Reggiana a 44, Bassano e Suttirol a 43, Feralpi a 42, la coppia Mestre-Pordenone a 41. Nella zona play-out la Fermana sale a 33, Vicenza e Teramo appaiate a 31, il Gubbio era terz'ultima a 28, seguito a due punti dal Sant'Arcangelo e a tre dal Fano. In serie B il Perugia impatta 1-1 a Cesena nel posticipo della 32esima giornata riportando a casa un punto che consente Biancorossi di agguantare il Parma in settima posizione dopo 32 turni di campionato. Nel primo tempo Grifo sfortunato con un palo di diamanti su punizione. Nella ripresa il Cesena passa in vantaggio dopo 13 minuti grazie alla punizione di Schiavone che deviata beffa le ali il Pari del Perugia arriva al 24esimo grazie alla soluzione da fuori area di buon aiuto subentrato a Gustafson. Prossimo turno in programma già giovedì per i grifoni che ospiteranno al Curi la cremonese del DS Gubbino Gian Marioli alle 20.30 ma sentiamo le parole del tecnico Breda dal dopogara di Cesena. È stata una bella partita, almeno penso vista da fuori, molto combattuta con delle fasi dove magari il primo tempo all'inizio abbiamo fatto qualcosa noi in più però dopo la finale del primo tempo il Cesena ha creato due o tre situazioni interessanti e nel secondo tempo dove siamo andati sotto i ragazzi sono stati veramente bravi a non perdere l'equilibrio perché il rischio era quello, a crederci e anche dopo il pareggio provare ugualmente a spingere perché fino alla fine abbiamo spinto con la voglia di far male. Va bene, sono contento di questa partita perché non era per niente facile, volevamo fare punti, ci siamo riusciti, abbiamo provato a vincerla però era importante anche non perderla perché qua a Cesena non è che hanno vinto in tanti ancora, hanno vinto solo due squadre quindi dovevamo, sapevamo che non era così scontata secondo me abbiamo fatto le cose giuste per provare anche a vincere E tra i dilettanti in campo la Serie D con l'anticipo tra Trestina e Sansepolcro terminato a reti bianche uno 0-0 che alla fine non serve a nessuno con i tifernati che cercavano la vittoria che li allontanasse definitivamente dalle zone basse e i biturgenzi alla ricerca di tre punti speranza il pari lascia invece immutate le scianze del Trestina e riduce al lumicino quelle del Sansepolcro Nulla da fare anche per il Villa Biagio sconfitto 2-1 a San Giovanni Valdarno nonostante il gol in apertura di Cenerini Ora la classifica che vede sempre in testa saldamente Rimini davanti a Limolese Forlia 54 e Fiorenzola 43, scivola al quinto posto il Villa Biagio ormai tallonato a due punti dal lentigione, in basso il Trestina è a 34 punti sempre più ultimo invece il Sansepolcro a quota 26 Ferma l'eccellenza regionale, lo sarà anche la prossima settimana soddisfazione arrivano per il calcio giovanile Umbra al torneo delle regioni gli scena in questi giorni in Abruzzo dopo la qualificazione dei giovanissimi conquiste il pass per i quarti di finale anche la rappresentativa Juniores di Andrea Marcantonini che lo fa abbattendo 1-0 la campagna con gol decisivo firmato ancora una volta dall'attaccante dell'Orvietana Alex Muà al terzo sigillo in altre tante gare una vittoria che consente alla Juniores di chiudere in vetta il proprio girone eliminatori e chiudiamo invece parlando di CUS, di Centro Universitario Sportivo 72 anni e luminoso riconoscimento a sancire il buon lavoro fatto i lavori e i risultati conseguiti dal CUS di Perugia nella giornata di inaugurazione dell'anno sportivo accademico che ha celebrato appunto questa ricorrenza i 72 anni resi ancora più importanti dal conferimento da parte del CONI dell'Umbria della Stella d'Oro l'importante onoreficenza al merito sportivo ottenuta a dicembre è stata simbolicamente consegnata ieri dal presidente Domenico Ignozia in tanti alla cerimonia che si è svolta al Centro Sportivo Bambagioni di Perugia a cui si riferiscono le foto a cominciare da Pierluigi Cavicchi, presidente del CUS Perugia Lorenzo Lentini, presidente nazionale dei centri universitari sportivi italiani insieme ai due elettori Moriconi e Paciullo rispettivamente all'Università di Perugia e Università Stranieri con la presenza anche di Donatella Porzi, presidente del Consiglio regionale e Draman Vaguè, assessore comunale allo sport la Stella d'Oro ha commintato il presidente del CONI Ignozza è l'onoreficenza più grande che il CONI possa dare credo che il CUS l'abbia meritata per la lunghissima storia che ha a favore dello sport possiamo considerare il CUS Perugia tra le società storiche che hanno visto tanti atleti e campioni passare veramente meritava questa onoreficenza già da tempo e è tutto per questa pagina sportiva vi ricordo per gli appuntamenti sportivi alle 21.15 torna fuori gioco parleremo di calcio con la Serie C ma anche di Futsal C1 con l'ospite in studio il tecnico della Viscubbio Marco Bettelli, reduce della vittoria contro la capolista Foligno e parleremo anche di Trial con un servizio dedicato al campionato nazionale svoltosi a Gubbio di cui torneremo a occuparci anche nei prossimi appuntamenti del TG Sport che andrà in replica intorno alla mezzanotte ritroverete domani sul nostro sito grazie per l'ascolto e buona serata 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 grazie per l'ascolto e buona serata